Ciao Beato Martire, come stai? Benvenuto nel mio canale se non l'hai mai fatto e bentornato se invece sei un aficionado di queste tematiche e di come le tratto io, che sono Angela Calefato, sono coach delle relazioni in tutto il mondo. Se sei qui è perché sicuramente o hai avuto una relazione con una persona che non c'è più, sta con un altro partner oppure comunque siete in silenzio stampa da tanto tempo o comunque sei in una relazione con una persona appunto che si sospetta, si è narcisista della situazione perché? Perché ti fa entrare in quella che noi coach e anche gli psicologi chiamano dissonanza cognitiva, più che dissonanza cognitiva, una voragine di dissonanza cognitiva. Ti spiego meglio, ma prima di dirti il tema di oggi che è il narcisista che sta con te a tutti gli effetti ma ripetutamente senza che tu richieda spiegazioni o faccia pressione di alcun tipo, ti dice che si sente una persona libera nel senso che gli piace moltissimo, sta bene con te ma libero perché vuole sceglierti liberamente ogni giorno. Vediamo dove va a finire questa relazione. Però prima ti devi iscrivere al canale, beh insomma mi sembra il minimo visto che faccio tanta divulgazione gratuita, siete in tanti a essere iscritti chiaramente ma in tanti a fare gli spioni quanto basta. E quindi iscriviti e poi attiva la campanella del beato martire perché lo sei fondamentalmente e poi ti darò del resto la possibilità di avere un consulto di 20 minuti gratuiti con me per avere un'idea della tua situazione e scrivendo semplicemente ad Angela Calefato chiocciola gmail.com Se la relazione è finita in piena dissonanza cognitiva ti senti in colpa, dice cavolo questo per tutto il tempo mi ha detto voglio essere libero con i miei spazi e voglio essere libero o libera di sceglierti ogni giorno lo dovevo capire da sola che non era cosa e vabbè questo è il valser del senno di poi no? Quindi stai tranquillo, stai sereno, non hai tutte queste colpe del mondo. E poi, e poi c'è invece chi sta nella relazione con un po' più furbo e già va su internet per vedere che cavolo sta succedendo nella relazione. E' un elogio alla furbizia, devo dire, un elogio al just in time che tu, beato martire, comunque hai come intuito e che quindi probabilmente salverà quello che è l'esito di questa relazione che non è ancora finita. Cosa vuol dire? Allora, poniamo, diciamo, una condizione necessaria per l'inizio di qualsiasi relazione, che inizia ovviamente con una frequentazione, perché un uomo, giustamente, o una donna non ti può dire ti amo dopo una settimana. E' balordo se fa questa cosa, no? E infatti il narcisista non malmente non lo fa subito, ok? E quando hai a che fare con un narcisista? Quando tu stai frequentando un uomo, una donna, state bene nella relazione, vi sentite tutti i giorni, parlate di più del meno, ti elenca una serie di tue qualità che ti fanno apparire come una persona all'altezza, no? Del tuo partner. E però, senza che tu faccia pressione, ripeto, e senza che tu ti sbilanci o ti sbottoni troppo, subito, ogni tanto ti dà dei segnali. Magari passando da, ah, ho visto due miei amici, sai, due miei amici che lei dice a lui, ma insomma, cosa siamo io e te? E il mio amico non sapeva cosa rispondere, no Angela, te lo dico io, il mio amico doveva rispondere, no, noi ci dobbiamo scegliere ogni giorno, perché vedi Angela, cioè le relazioni finiscono, l'amore finisce. Anzi, posso dirti una cosa, Angela, l'amore, inteso dal popolino, dalla massa di pecore, è qualcosa che è molto simile alle convenzioni di San Valentino, baci perugina, ma la gente non capisce che l'amore non esiste. L'amore, io voglio il tuo bene, io voglio sceglierti ogni giorno, questa è la relazione, mica possiamo ipotecare il futuro. Bene, quindi il narcisista può farlo in questo modo, quindi parlando indirettamente di altre persone, magari si sta anche inventando il caso, per definire subito con te, non sia mai ti venga l'impressione che stiamo insieme o che ti fai le fantasie, perché io non so mai che cosa succede, non mi pongo neanche il problema. Attenzione, il fatto è questo, quando due persone si incontrano, stanno bene insieme e hanno una frequentazione, devono rispettare reciprocamente i propri tempi, e su questo siamo tutti d'accordo, giusto? Però, in una cena, in una situazione in cui vi state anche molto divertendo, se una persona ti mette avanti già una cosa che sembra una minaccia, perché una persona che ti dice, per prima, io sono una persona libera, io voglio essere libero di sceglierti ogni giorno, e ancora non siete entrati nella fase, cioè non siete usciti neanche nella fase dell'innamoramento, ma è una persona pericolosissima, perché, pensaci bene, se tu apri l'ombrello e te lo porti, è perché sai che c'è previsione di tempesta, di pioggia, di maltempo, nella giornata, e le previsioni sono più o meno attendibili ormai, giusto? Ma, se tu sai che sarà una settimana piena di sola, che fai? Apri l'ombrello ogni volta che esci di casa? E cammini con l'ombrello aperto? No! Quindi, apriamo l'ombrello in momenti di emergenza, ho due gocce, cavolo, ho l'ombrello, mo' lo apro e mi difendo, mi riparo, faccio un guscio attorno a me, dall'intemperio. Ma, se io apro l'ombrello quando non c'è bisogno, c'è qualcosa che non va, e la stessa cosa succede nelle relazioni. Se il narcisista, perché è un narcisista, continua a stare con te, e soprattutto nei momenti più piacevoli, ha bisogno di distruggere quel momento piacevole, perché succede sempre così, aprendo l'ombrello, d'improvviso, e dicendo, io sono una persona libera e... perché ti voglio scegliere ogni giorno. Già ti sta mettendo in una posizione squilibrata rispetto a lui, è lui che ti ha minacciato, io posso scegliere, ma non ha... Non ha aspettato che tu dicessi, ah, sono io effettivamente che la penso così come te. No, poi tu dirai, giustamente. Beh, è chiaro, è chiaro che ci si sceglie ogni giorno, però ti senti già minacciata, o ti senti già minacciato da questo. Non va bene. Perché questo mina la fiducia, non c'è bisogno, la fiducia è che dalla frequentazione si passi ad altro. Sei già allarmata, sei già allarmato, no? E questo non va bene. Ti sentirai sempre in debito di fare, avrai sempre l'ansia di prestazione, perché, oh, cavolo, ieri mi ha scelto e oggi che farà? Non mi sceglie più? Dipende dalla performance che ho? Oggi lo annoio e quindi mi scarta. Quindi questo non va bene. Ricordati che chi mette le classiche mani avanti, di chi apre l'ombrello quando c'è il sole, senza aspettare l'emergenza, noi mettiamo l'ombrello nella relazione quando iniziamo a vedere che le cose non stanno andando e quindi ci ripariamo da qualcosa di spiacevole, no? Che ci rovina la piega magari, molte volte. Quindi mettere le mani avanti è pericoloso per te. Se l'ha già fatto una volta e sei già entrato in dissonanza cognitiva, non c'è niente da fare, sei già qui. Se lo ripeto un'altra volta, tu devi rispondere a questa persona, non puoi più far finta di niente, ma soffrire dentro e ingoiare il rospo. Devi reagire come si reagisce assertivamente quando qualcosa non ti piace e ti posso garantire che se pensi che questa cosa che ti dice non ti piace hai ragione. Hai ragione. Solo per una questione di buonsenso, va bene? Anche solo per quello. Quindi devi rispondere, ascolta. Io non posso stare in una relazione piacevole con le continue minacce autoprofettiche con le credenze di fine perché le parole sono importanti. Nel momento in cui parli con vibrazioni negative e quindi io voglio sceglierti ogni giorno, l'amore non esiste oppure io sono una persona libera, tu mi stai minacciando, ma io minaccio te. Io questi discorsi non li voglio perché sono una persona fluida. Sono una persona fluida e sono una persona che non fa autoprofezie aberranti. Lascio correre le cose, ma non le inquino le cose belle dando delle minacce velate. Ah, ma io non stavo minacciando, non stavo discorrendo, no, tu stai minacciando. O lo accetti o non lo accetti, ma a me non interessa. Devi rispondere così assertivamente, non devi avere paura di chi mette l'ombrello in tempo di sole. Se tu non lo farai, poi ti sentirai in colpa di non averlo fatto tra un bel po' di tempo. E se invece l'hai già fatto e adesso ti stai rovellando, ecco Angela amplifica i miei sensi di colpa perché io ho fatto proprio così, io pensavo che fosse diffidenza, io pensavo che fosse scottato dalle relazioni e quindi aveva bisogno di dire che si sentiva libero perché lui è diffidente, perché lei è diffidente, perché l'ha sofferto tanto. No, la sofferenza non giustifica una minaccia. Quindi, sei sempre in tempo. Tanto queste persone tornano e quando tornano, hai sempre il tempo di elaborare te stesso, te stessa e vincere questa partita con la tua rabbia e con i tuoi sensi di colpa. Un bacio a tutti e ditemi quanti narcisisti avete incontrato? Voglio rimanere libero, però poi stavano 24 su 24 nella relazione.